Non si placano le polemiche in città sulla cosiddetta movida. Molti cittadini, tramite il legale Fausto Corti, stanno inviando al Comune decine e decine di richieste di risarcimento danni. Presto partiranno le cause civili, come riferito anche dal quotidiano Il Centro. La Cassazione, di recente, come ricorda pure il Presidente dell'Associazione Residenti per il Centro Storico, Claudio Aloisio, si è pronunciata e mette i comuni davanti al rischio di veri salassi per le proprie casse, se non si garantisce la quiete pubblica. Per il Comitato di Residenti l'estate appena iniziata è come quelle vecchie, dopo le 20 si scatena l'inferno e molte persone stanno andando via. La Comune in quanto amministrazione e in quanto titolare del regolamento comunale è quello deputato a far rispettare la quiete e l'ordine come da regolamento comunale o quiete e ordine che vengono invece regolarmente disturbati, ordinamento quindi che viene regolarmente disatteso senza che il Comune prenda nessun provvedimento. Sono tanti i cittadini che si stanno rivolgendo a voi? Diverse decine ci hanno chiesto di cominciare chiaramente con delle lettere di messa in mora anche per interrompere la prescrizione e poi di procedere anche alla luce della sentenza della Cassazione recentissima che ha sancito il principio per cui è un diritto quello di poter dormire, di poter riposare e di non venire quotidianamente perché non si tratta di episodi sporadici ma è la regola, disturbati semplicemente perché si vive in un centro storico. Alcuni membri della nostra associazione hanno deciso di vendere o comunque dar via la loro casa in centro e trasferirsi in periferia o in delle frazioni dove la vita è più tranquilla soprattutto famiglie con bambini piccoli per cui è veramente difficile gestire una vita familiare in un centro che è un locale a cielo aperto dove fino alle 2, le 3, le 4 del mattino non si riesce a dormire, non si riesce a riposare, non si trovano parcheggi, non ci sono asili, non ci sono farmacie, non ci sono negozi di prossimità, insomma tutte le cose che abbiamo sempre detto e che purtroppo sono quelle che penalizzano il nostro centro e quindi la nostra città. I legali fanno sapere che stanno arrivando anche le azioni civili e presto partiranno gli atti di citazione in causa, il pronunciamento della castazione risale ai primi di giugno in un'azione legale avviata da due cittadini di Brescia nel 2012, in primo grado il tribunale gli aveva dato ragione ordinando al comune di predisporre un servizio di vigilanza per disperdere la folla dopo la chiusura dei locali, la corte d'appello aveva rovesciato il verdetto, la terza sezione della castazione invece ha ribaltato poi ancora una volta definitivamente la sentenza, ora sarà l'appello a definire i dettagli.